Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. Oggi voglio affrontare un argomento che può farci riflettere e cambiare la nostra visione su ciò che mangiamo. Io mi nutro o nutro il mio corpo? Pensateci un attimo, siamo davvero noi, come esseri umani, a gestire tutto il processo nutrizionale? O c'è qualcos'altro che entra in gioco? Sembra infatti che siamo solo per il 50% esseri umani e solo in parte siamo noi a gestire i processi di digestione e assorbimento. Il resto del lavoro lo fanno i nostri microbi, siamo infestati dai microbi, siamo alieni. All'interno del nostro corpo vive un'intera comunità di microorganismi, che non solo ci accompagna, ma ha un impatto decisivo su come assimiliamo il cibo, gestiamo l'energia e persino può condizionare i cambiamenti del nostro umore. Non siamo soli in questo viaggio e i nostri microbi sono più importanti di quanto noi possiamo immaginare. Ogni volta che mangiamo non stiamo semplicemente nutrendo noi stessi, stiamo nutrendo miliardi di batteri che lavorano incessantemente per mantenere il nostro corpo in equilibrio. Pensiamo per esempio alla digestione. Il cibo che ingeriamo non viene assimilato direttamente da noi, ma prima deve essere processato dai batteri dell'intestino, che ad esempio scompongono le fibre, si nutrono di zuccheri, producono vitamine, acidi grassi e influenzano il nostro sistema immunitario e ormonale. Quindi la vera domanda diventa, stai alimentando il tuo corpo in modo da supportare anche questi microbi essenziali? Se ignoriamo la salute del nostro microbiota possiamo incorrere in diversi problemi, difficoltà digestive, cali di energia, abbassamento delle difese immunitarie e persino un rilevante impatto sul nostro umore. Ecco perché è fondamentale fare scelte alimentari che nutrono anche loro, non solo noi. Quindi quando pensiamo al cibo non dobbiamo fermarci solo all'idea di cosa piace a me o di cosa ho voglia oggi. Dobbiamo fare un passo indietro e chiederci se questo cibo che piace a me piace anche ai miei microbi, li sta nutriendo, sta alimentando la biodiversità microbica intestinale. E questo cambia il nostro modo di vedere l'alimentazione, perché riguarda non solo la quantità del cibo che mangiamo, che è assolutamente vero che fa differenza nel mettere su più o meno peso e più o meno grasso, ma anche alla qualità del cibo e la qualità ha un impatto significativo sull'intero ecosistema che ci abita. E adesso voglio condividere con voi alcune linee guida non proprio convenzionali. Questi consigli includono alimenti e integratori specifici, ma anche attività fisica e stile di vita. Questi suggerimenti però fanno parte delle mie scelte ed esperienze personali, e che credo possano essere alla portata di tutti, perché sono cose che fa un minimalista certificato come me. Allora, iniziamo con alcuni alimenti e integratori che utilizzo più spesso. Gli alimenti probiotici. I cibi probiotici contengono batteri che una volta ingeriti possono colonizzare l'intestino e favorire l'equilibrio del nostro microbiota. Il primo che ti viene in mente è sicuramente lo yogurt, però io personalmente preferisco il kefir, specialmente se fatto in maniera artigianale da mani esperte. Il kefir, a differenza dello yogurt che contiene di solito solo due ceppi batterici, offre una varietà molto più ampia di batteri benefici. E in certi casi, soprattutto quando fatto in maniera artigianale, sono inquantificabili. Anche solamente un paio di cucchiai al giorno possono fare la differenza a migliorare la diversità batterica intestinale. Io lo aggiungo nei frullati proteici o nei miei gelati con le whey, ma può essere inserito in qualsiasi piatto, ricetta o condimenti, e si può utilizzare per allungare anche lo yogurt greco, e quindi potenziare questo alimento che è tanto amato dai bro. Altri alimenti probiotici sono tutte le verdure fermentate, e io utilizzo spesso i cetriolini, l'aio fermentato e i frutti di cappero fermentati, che sono quelli per me più facilmente reperibili e utilizzabili. Ma tu potresti anche preferire il krauti, il miso, il kimchi, che fanno parte di questa categoria. Passiamo agli alimenti invece prebiotici. I cibi prebiotici invece sono il nutrimento per i batteri intestinali. Rappresentano una tipologia di fibre che i microbi digeriscono, rilasciando sostanze benefiche per il nostro organismo. Tra questi io prediligo le verdure crucifere come cavoli e cavolfiore. Poi inserisco anche la cicoria e i cuori di carciofo surgelati, che sono ricchi di inulina, che è una fibra prebiotica di cui i nostri batteri sono ghiotti. E un'altra fibra prebiotica per i batteri è l'amido resistente, che si trova ad esempio in banane non troppo mature, legumi, o la si può ottenere semplicemente cuocendo le patate o del riso e lasciati raffreddare in frigo per almeno 24 ore prima di consumarli. Anche le classiche patate dolci, che sono quelle che io utilizzo più spesso, sono un'ottima fonte di amido resistente. E queste io le trovo dal mio contadino di fiducia, oppure online da Davide, di patadolce, perché le sue patate a pasta bianca le ritengo superiore a tutte. E queste puoi ordinarle anche dal loro sito con il codice EMERIO10, hai anche un piccolo sconto. Sono molto utili anche alimenti ricchi di beta-glucani, e io utilizzo principalmente funghi, avena e orzo. Parlo in dettaglio dei benefici dei beta-glucani in quest'altro video. Vallo a vedere, va! Vai, va! I funghi li prendo sia freschi, cercando di variare le tipologie, ma molto spesso surgelati, preferendo gli champignon per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo. E soprattutto per la facilità di preparazione, perché li aggiungo direttamente dal freezer alla padella. E infine, avena e orzo, che io utilizzo prevalentemente quelli soffiati a colazione. Oppure l'avena in fiocchi o in farina per preparare dei porridge. Ovviamente, questi non sono gli unici alimenti benefici per l'intestino. Ne esistono molti altri, e sicuramente anche tu ne usi di diversi. Questi sono solo quelli che io trovo molto comodi e furbi per me. E se tu usi altri cibi che sai avere effetti positivi sul microbiota, scrivili nei commenti, e sarò felice di darti una mia opinione. Ma cu cazzo sì! Bisogna partire da cose semplici, che puoi fare ogni giorno, senza dover cercare quella verdura introvabile, o quel frutto magico del Madagascar, che costa un occhio della testa e richiede carlo cracco per essere preparato. Cose pratiche e concrete, un po' in stile Giorgione. E per finire con la parte alimentare, ti lascio con un bonus. Un'altra pratica che potrebbe sembrare vecchio stile, ma estremamente benefica, è l'inserimento del brodo di ossa nella dieta. Magari anche un paio di volte al mese, considerando che la preparazione è facile, però richiede tempo. Il brodo di ossa è ricco principalmente di collagene, che aiuta a migliorare la salute della barriera intestinale. Vai dal macellaio di fiducia e fatti mettere da parte gli scarti di ossa, cartilagine e tessuto connettivo, che spesso vengono buttati. Oppure puoi utilizzare gli ossobuchi, la coda di bue, lo stinco, ed altri tagli un po' più convenzionali per fare il brodo. Anche con il pollo intero ci si fa un ottimo brodo ricco di collagene. Ora passiamo agli integratori per il microbiota. E il primo che utilizzo è proprio il collagene bovino idrolizzato, che offre in parte gli stessi benefici del brodo di ossa per il supporto della salute della barriera intestinale. Il collagene ha però molte altre funzioni importanti, di cui ne parlo in dettaglio in quest'altro video dedicato. Fallo a vedere, va! Vai, va! Io lo utilizzo in polvere per preparare di solito una crema al caffè, che spesso consumo nel primo pomeriggio. La preparo con ghiaccio, caffè decaffeinato, e un po' di stevia, o altro dolcificante. Il risultato è bello cremoso, perché il collagene quando frullato forma una sorta di gel che incorpora bolle di aria, aumentando la cremosità del composto. E alla fine il ghiaccio raffredda il tutto e lo mantiene più denso. Berberina. Un altro integratore molto utile è la berberina, che io utilizzo a cicli, soprattutto nei periodi in cui aumento l'assunzione di carboidrati. Questo integratore è infatti noto per la sua capacità di modulare i livelli di glucosio nel sangue, ma è anche stata ampiamente studiata la berberina per i suoi benefici sul microbiota intestinale. Può favorire un ambiente intestinale sano, simulando la crescita di diversi lattobacilli, specialmente quelli produttori di butirrato, che è essenziale per mantenere la salute e l'integrità della barriera intestinale, prevenendo le infiammazioni. Inoltre possiede proprietà antimicrobiche, che riducono la proliferazione di batteri patogeni di diverse specie degli enterobatteri, interferendo con la loro sintesi proteica e la replicazione del DNA. Infine, la berberina inibisce le vie pro-infiammatorie, come il fattore di trascrizione NFKB, e può ridurre direttamente i processi infiammatori intestinali. L'inulina. L'inulina si trova in polvere anche, ed è una fibra prebiotica di cui i nostri microbi, specialmente quelli che sono presenti nel colon, la utilizzano come fonte di nutrimento, e anche loro promuovono la produzione di butirrato. Io prendo quella in polvere a catena lunga, che è una struttura molecolare più complessa rispetto a quella a catena corta. I batteri del colon la fermentano in modo più lento e graduale, e di conseguenza si evitano problematiche come produzione immediata di gas, gonfiore e crampi, che possono verificarsi invece con la fermentazione rapida delle fibre a catena corta. Ed una fermentazione più lenta e anche più efficiente, per promuovere una crescita più equilibrata del microbiota. Se la trovate, scegliete sempre quella in polvere a catena lunga. Le proteine del siero del latte, in particolar modo quelle concentrate. Le whey sono anche molto utili a sostenere una buona salute intestinale. Contengono sostanze come la lattoferrina, le monoglobuline e anche la glutammina, che agiscono direttamente a livello intestinale. La lattoferrina è particolarmente interessante perché inibisce la capacità dei patogeni di legarsi alla parete intestinale, proteggendo così l'intestino da infezioni. Inoltre, la lattoferrina modula l'assorbimento del ferro, che è un nutriente essenziale che può influenzare sia la salute intestinale che la proliferazione batterica. Aiuta a mantenere il ferro disponibile per il corpo e in parte lo sottrae ai patogeni che lo potrebbero utilizzare per crescere. Inoltre, una parte significativa delle whey concentrate è costituita da glutammina, un amminoacido non essenziale, ma che è il principale carburante per gli enterociti, che sono le cellule che rivestono il nostro intestino e sono fondamentali per l'assorbimento di nutrienti. La glutammina favorisce la rigenerazione e riparazione degli enterociti, supportando anche qui l'integrità della barriera intestinale. Questo rende le whey una fonte proteica, utile anche per il benessere intestinale, sempre se è un prodotto valido e certificato. E qui ti rimando al mio video su come scegliere le whey ed anche a quelle che utilizzo più spesso in questo periodo. Limitare cibi con molti conservanti Gli alimenti altamente processati e ricchi di conservanti, comunemente presenti nelle diete moderne basate su cibi scatolati e pronti all'uso, possono avere effetti deleteri sulla salute del nostro microbiota. I conservanti, come i nitrati, i nitriti, i solfiti e alcuni additivi artificiali, sono stati progettati proprio per prevenire la crescita di microrganismi dannosi e prolungare la durata di conservazione degli alimenti. Giustissimo! Ma queste sostanze purtroppo non sono selettive e possono anche colpire i batteri benefici, alterando così la diversità del nostro microbiota. Studi scientifici hanno dimostrato che un'esposizione cronica a questi additivi può alterare significativamente la diversità del microbiota, con conseguenze negative per la salute intestinale. Per preservare l'equilibrio del microbiota, è quindi consigliabile preferire un maggiore introito quotidiano di alimenti freschi e minimamente trattati, ricchi di fibre e nutrienti essenziali, in cui non sono stati aggiunti conservanti o additivi artificiali. Senza essere terroristi però, eh? Bisogna solo prendere coscienza degli alimenti che introduciamo quotidianamente, leggendo bene le etichette, e limitare quelli conservati e ultraprocessati, dove leggiamo una lunga lista di nomi a noi sconosciuti, oltre all'ingrediente principale. E magari andare anche a indagare su quei nomi a noi più sconosciuti, ma che si ripetono nei cibi che assumiamo per capire realmente di cosa si tratta. Questo può fare una differenza significativa nel lungo termine, finché i microbi non ci abbandonino per sempre. E se hai dubbi su alimenti processati che assumi regolarmente, scrivilo nei commenti, così vediamo di chiarire la cosa. Ma cu cazzo sì! Esercizio fisico regolare. E qui mi ripeterò sempre. Mi dispiace. Ma muoversi non è solo una questione di forma fisica, ma rappresenta una delle prime forme di prevenzione contro la maggior parte delle malattie. Un'attività fisica regolare, quotidiana e costante, che includa esercizi di resistenza, come l'allenamento con i pesi, che sport e attività cardiovascolari, è essenziale non solo per il benessere fisico generale, ma anche per la salute del nostro microbiota intestinale. La ricerca ha dimostrato che l'esercizio fisico regolare può aumentare la diversità del microbiota intestinale, promuovendo la crescita di batteri benefici, come iprepotella e la kermansia, entrambi associati a una buona salute metabolica e intestinale. Questo effetto positivo si verifica anche grazie alla modulazione dei livelli di infiammazione, con un impatto benefico che si estende al metabolismo e alla prevenzione di malattie croniche come obesità e diabete. Muovetevi e allenatevi, anche quotidianamente se siete degli esseri umani. Non è sedentario l'essere umano. Poi, se siete alieni, fate il cazzo che vi pare. Circondarsi di un ambiente naturale. Sapevi che il contatto con un ambiente naturale può migliorare il tuo microbiota? Stare all'aperto a contatto con la terra o passare del tempo con gli animali espone il tuo corpo a una varietà di batteri prevalentemente benefici, presenti nel terreno e negli animali. Chi vive circondato da un ambiente naturale o trascorre regolarmente del tempo a contatto con la terra e animali tende ad avere un microbiota più sano e diversificato, grazie all'esposizione a microorganismi che favoriscono l'equilibrio microbico e allenano il nostro sistema immunitario. Anche questo è documentato dalla scienza, quindi non bisogna essere troppo igienisti o vivere in modo sterilizzato, pensando che tutto ciò che è sporco sia dannoso. È sì importante prendersi cura della propria igiene, ma senza essere maniacali. Avere più contatto con l'ambiente, con il suolo e gli animali può contribuire a una salute migliore e a un microbiota più resiliente, soprattutto quando viene fatto sin da piccoli. La diversità microbica che si acquisisce attraverso queste esperienze può avere un impatto positivo sulla salute complessiva e sul sistema immunitario. In conclusione, il microbiota è un ecosistema interno che necessita di più attenzione, poiché ci appartiene e ci supporta più di quanto noi possiamo immaginare. Ora che abbiamo acquisito una certa conoscenza anche a livello scientifico, è importante andare oltre. Non si tratta solo di scegliere alimenti giusti e integratori più utili, ma anche di diventare consapevoli di tutte le altre abitudini che favoriscono l'attività fisica e il contatto con l'ambiente naturale. Ed è, mio avviso, molto importante mantenere le cose semplici senza complicarci la vita. Non è necessario mangiare mille verdure diverse o assumere tutti gli integratori per il microbiota, né iniziare da domani ad allenarsi ogni giorno e andarsi a rotolare nel fango con i porci. Inizia con poco e da dove pensi di avere una carenza. Esperimenta ciò che ti risulta più comodo. Devi riuscire a farlo diventare un'abitudine. Sono i piccoli cambiamenti resi sostenibili e costanti nel tempo che possono fare una differenza significativa. Bene figliozzi, il video termina qui. Lascia un commento e sarò molto felice di risponderti. Iscriviti al canale per affamare la mia voglia di divulgazione pseudoscientifica. Per una consulenza privata puoi contattarmi tramite i contatti che ti lascio in descrizione. Grazie mille per la visione. Ci vediamo nel futuro. Un abbraccio e pura vita. Ribadisco Inizia con me